Non posso raccontarti tante cose, ti dico solo che sono caduto nell'inferno senza morire. Così racconta lo scrittore austriaco Leo Spitzer, scriveva un soldato dalla trincea della Grande Guerra alla moglie che ne attendeva il ritorno a casa. È uno tra migliaia di pensieri che i militari al fronte potevano far giungere ai familiari grazie al servizio di posta militare istituito nel 1915. Anche di questo si è parlato a Vasto al convegno dal titolo La Comunicazione nella Grande Guerra, organizzato nell'ambito di Vastofil. Tra i relatori il professor Mario Coglitore della Cafoscari di Venezia, che ha parlato delle sentinelle della comunicazione. Erano i dipendenti delle poste, quelli formati in età giolittiana, con uno spiccato senso del dovere e uno schema identitario comune. Partirono in poche centinaia, a fine conflitto erano 1200, oltre a 1400 uomini di fatica e circa 200 carabinieri, tre compartimenti di Bologna e Treviso. Con cartoline e lettere dal fronte, tanti italiani impararono anche l'importanza della comunicazione e della conoscenza della lingua italiana. Ci voleva anche molto coraggio e molta abnegazione. Il lavoro da fare era tantissimo e lo fecero con grande passione. Insomma, certamente con grande partecipazione. La struttura era stata anche concepita in maniera ottimale, direi, per andare incontro alle esigenze del Comando Supremo dell'Esercito, ovviamente, e per consentire soprattutto la trasmissione di effetti postali, non soltanto lettere e cartoline, ma per esempio anche pacchi, tra casa e il fronte. Oltre che per mantenere naturalmente le comunicazioni anche fra i soldati che stavano al fronte, che magari avevano fratelli, cugini, amici da un'altra parte, insomma, semplicemente. E quindi era necessario stare in contatto, sapere soprattutto se si era sopravvissuti. I postini più temerari costituivano un gruppo speciale, quello della posta volante, che consegnava e ritirava lettere e pacchi direttamente in trincea. La posta volante è un'articolazione ulteriore del servizio di posta militare. La posta volante arrivava direttamente in trincea e era riservata ai casi in cui le unità avessero soldati sparsi in un territorio piuttosto ampio e quindi andavano raggiunti quasi uno per uno. E in questo consisteva il lavoro degli addetti alla posta volante di portare la corrispondenza, ma anche i vagli, quindi anche soldi, se serviva direttamente in trincea. E lo facevano con i camion, fin dove potevano, oppure con le slitte. Qualche volta in bicicletta, più spesso a piedi. La mostra allestita a Palazzo D'Avalos, con reperti originali dell'epoca, tra riviste e documenti vari, è aperta fino al 7 novembre. Nel corso della settimana, previsti anche annulli filatellici speciali.